Anche quest'anno l'estate a Napoli 2018 si arricchisce della rassegna classico contemporaneo in programma dal 30 luglio al 2 settembre nel chiostro del convento di San Domenico Maggiore. Oltre un mese di eventi teatrali e musicali organizzati da Gianmarco Cesario e Mirco De Martino presentati questa mattina con l'assessore alla cultura e turismo Nino Daniele nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. A Napoli il teatro non chiude mai. Classico contemporaneo è una rassegna che ormai è un classico contemporaneo. Siamo alla quinta edizione, ogni anno un'edizione più ricca, più bella e un modo anche d'estate di incontrare il teatro napoletano secondo me è uno degli aspetti più vitali e interessanti, è carico di suggestioni e anche secondo me di grandi prospettive. Non a caso abbiamo usato questa metafora che a Napoli il piccolo teatro, cioè inteso il teatro che ha pochi mezzi e a volte anche piccoli spazi però proprio perché si fa a Napoli ed ha in sé il grande fuoco della polis e un grande teatro. La rassegna che torna per la quinta edizione si è negli anni sempre più consolidata con una programmazione di spettacoli e concerti che coinvolgono numerose compagnie, giovani e per lo più campane. Quest'anno intanto sono i numeri che sono completamente diversi, siamo un intero mese, sono 35 sere consecutive di programmazione, abbiamo 30 compagnie diverse, c'è quindi un'enorme varietà di spettacoli, di idee, di proposte. Ovviamente a noi resta sempre l'attenzione al classico, al fatto che gli spettacoli partono tutti da testi che sono dei classici che vengono rivisitati con un'attenzione anche poi alla commedia, alla tragedia, alla storia di Napoli e quindi c'è una grande varietà per il pubblico, anche spettacoli musicali, che il pubblico potrà scegliere alcuni degli spettacoli che preferisce in base ai generi e agli interessi. Abbiamo cominciato quattro anni fa con cinque spettacoli e adesso siamo ad una programmazione di sei volte più grande e naturalmente quest'anno, ogni anno, abbiamo un focus particolare. L'anno scorso era sulla tragedia greca, quest'anno ci siamo un po' più divertiti a mettere dentro anche spettacoli musicali aumentando un po' quella che è la caratteristica della musica, declinati in vari modi. Tre profili di tre grandi artisti del panorama musicale italiano, quali sono stati Mia Martini, Domenico Modugno e Pino Daniele due incursioni modernizzate del teatro d'opera con il flauto magico di Mozart e il barbiere di Siviglia insomma ci sono tantissime declinazioni anche per quanto riguarda il discorso musicale.